Ernesto Alecci, candidato a sindaco nella lista numero uno verso il futuro. Perché ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco nella città di Soverato? Onestamente non è che lo abbia deciso io. È stato un gruppo di persone, di amici, due partiti importanti che ci sono in questa città, il Partito Democratico e il nuovo centrodestra, più un gruppo di persone che rappresentano la società civile che hanno trovato in me forse quel punto di equilibrio per mettere assieme tutte queste forze buone che ci sono all'interno della città, per governare meglio la città di come è stato fatto in questi ultimi due o tre anni. Lo faccio anche chiaramente sentendone il dovere e l'orgoglio. Sono stato tanti anni fuori a Milano dove ho studiato e ho lavorato. Poi a un certo punto l'attaccamento e la nostalgia per questa città era troppo forte. Ho deciso di tornare, di far tornare insieme a me quella che era la mia compagna, diventata poi mia moglie, e di fare famiglia proprio qui a Soverato. E quando giro per Soverato insieme alla famiglia, alla mia bambina di tre anni, vedo una città stanca, piegata su se stessa, diversa da quella che ricordavo da quando ero bambino. Quindi il motivo della mia candidatura è di aver accettato questa candidatura, di far risplendere, far rialzare questa città, far risentire l'orgoglio di sentirsi cittadini di Soverato e dare appunto il mio impegno anche attraverso le competenze che mi sono costruito in questi anni di studio e di professione. Antonello Gagliardi, candidato a sindaco nella lista numero due semplicemente Soverato. Perché ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco della città di Soverato? Perché nel 2011 mi sono candidato e purtroppo i cittadini non hanno dato fiducia alla mia lista, nonostante abbia parlato di dissesto, di piano di riequilibrio, di debiti della nostra città. Purtroppo con il dissesto e il piano di riequilibrio la città ha dovuto dare ragione ad Antonello Gagliardi. Più i servizi che sono stati pagati e non effettuati hanno consentito ad Antonello Gagliardi di riproporsi e cercare la fiducia dei cittadini per poter recuperare e rielaborare un bilancio che possa portare avanti la nostra città. Pietro Curato l'ha candidato a sindaco nella lista numero tre denominata Euforia. Perché ha deciso di candidarsi a sindaco nella città di Soverato? Euforia ha deciso di prendere parte a questa campagna elettorale perché ha ritenuto doveroso dare un segnale di discontinuità da certi ambienti e da certi metodi di fare politica. Euforia propone innovatività nelle persone, nel linguaggio, nelle idee e nel metodo politico che porta avanti. Il nome di sintesi della candidatura a ruolo alla carica di sindaco è stato un nome assolutamente emerso da un cammino condiviso basato sull'analisi dei problemi della città e non sulla spartizione di ruoli programmata per affrontare una campagna elettorale. Francesco Mantit, candidato a sindaco nella lista numero quattro formata dalla coalizione Forza Italia Udc Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Perché ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco nella città di Soverato? Ho deciso di candidarmi a sindaco a Soverato per il bene della mia città. Io credo che nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, chi vuole bene la sua città ci deve mettere la faccia, l'anima e il cuore. Quali sono i punti chiave del suo programma elettorale? Il programma è lungo per una serie di motivi, intanto perché la mia è una lista composta da tantissimi giovani e quindi le idee e la voglia di fare sono tantissime. Diciamo che due dei punti principali sono sicuramente il decoro urbano, lo dicevo prima, Soverato è trascurato per quanto riguarda le aree verdi, il lungomare, la gestione dei rifiuti, l'arredo urbano stesso e soprattutto è trascurata anche poi dal punto di vista dello sviluppo economico. Ci sono tanti ragazzi a spasso e situazioni di famiglie in grosse difficoltà, in grosso disagio. Per poter far questo bisogna avere una prospettiva di lungo termine ed essere capaci di elaborare progetti che possano creare veramente un volano per questa città. Lo faremo sicuramente attraverso l'alienazione di alcuni terreni comunali, dando il giusto indirizzo tecnico, quindi con le destinazioni d'uso necessarie. Penso ad esempio alla zona vicino al depuratore, che speriamo tra qualche mese possa essere spostata in una nuova zona all'interno del comune di Satriano. Quella sicuramente attraverso il porto turistico e attraverso uno sviluppo anche urbano, sicuramente può rappresentare una prima opportunità per questa città. Penso anche al terreno di fronte alla curva dell'Inps, all'interno del quale si possono creare delle aree commerciali e tante altre cose da fare, cercando di attrarre anche quelli che sono gli investimenti e i fondi europei e gli imprenditori privati. Trasparenza, funzionamento della macchina burocratica, trasparenza si intende anche con i preconsigli e le pregiunte. Noi vorremmo coinvolgere tutti i cittadini affinché fossero loro ad amministrare la città e non i 13 candidati con il sindaco. La fascia che noi abbiamo dato a tutti i cittadini nel nostro manifesto è proprio questo. Serve per far capire alla città che quel controllo che è venuto meno in questi ultimi 20 anni ci deve essere da oggi in poi. Il programma elettorale e euforico prevede di portare avanti battaglie trasversali in molti ambiti di intervento. Sicuramente ciò che è emerso dai questionari che noi abbiamo somministrato circa un anno fa è stata la sensibilità dei cittadini verso il problema ambientale, quindi tutto ciò che riguarda il problema dei rifiuti, ma anche quello della vivibilità in generale nella città. Siamo stati da poco a Sovelato Superiore, abbiamo visto che per quanto riguarda invece il decoro urbano abbiamo dei modelli da seguire già nella nostra comunità. Altre battaglie che porteremo avanti saranno quelle della mobilità, la mezza termo e Sovelato, così come anche quella della valorizzazione del polo scolastico e del patrimonio socioculturale che attraverso le associazioni può fare per Sovelato la differenza. Innanzitutto ridare dignità alla città di Sovelato, decoro urbano importante, l'ambiente altro tema importantissimo, risanare le casse comunali per quanto possibile e per come possibile, ma soprattutto dare fiducia ai cittadini di Sovelato e dire che si può andare avanti insieme facendo le cose con grande trasparenza e con grande coraggio. In caso di vittoria cosa darà priorità? Beh, in caso di vittoria darò la priorità sicuramente al bene della città. L'ho detto già in qualche altra intervista, noi non lavoreremo col manuale Cencelli, non staremo lì a vedere chi ha preso un voto in più o un voto in meno. Ognuno dovrà spendere le proprie competenze, la propria passione, le proprie capacità e il proprio tempo. Amministrare Sovelato richiederà sicuramente tanto tempo da impegnare, quindi magari non tutti lo avranno a disposizione. Quindi non precludo al fatto che si possa far parte di questa amministrazione anche qualche forza esterna, qualche professionista esterno che già mi si è avvicinato ed è pronto ad entrare in campo. La lista è formata da 12 persone, tutte e 12 rimarranno a far parte di questa squadra, lavorando tutti i giorni assieme e assieme anche ai cittadini. Il Comune deve essere la casa del popolo, deve essere la casa di tutti i soveratesi e anche degli abitanti dei comuni limitrofi, perché Sovelato da sola si può sviluppare, può andare avanti, ma ha bisogno anche dei comuni che sono vicino a noi. Quindi la mia porta sarà sempre aperta per i consigli e suggerimenti di tutti, per il bene della città. Le priorità sono molte. Intanto siamo vicino ad una stagione estiva e la prima cosa che dobbiamo fare è pulire la spiaggia fino a quando non ci sarà la possibilità di fare un piano spiaggia, lavorare sull'ordine e sulla macchina burocratica. Far sì che tutti i servizi esternalizzati rientrino per consentire ai dipendenti di essere tutti in servizio nella nostra città, perché se no molti dovrebbero andare in mobilità. Daremo priorità sicuramente a tutto ciò che è emerso dalla somministrazione dei questionari, ma cercheremo in primis di lavorare sul rapporto comune-cittadino. Ieri parlando con un futuro elettore mi è stato detto io vorrei che nel comune esistesse una stanza delle lamentele. Questa è una richiesta da cui emerge il bisogno di avere un contatto anche fisico con chi amministra la città e noi in questo ambito lavoreremo molto. In caso di Vittoria darò priorità a quello che chiedono i cittadini di Soverato. I cittadini di Soverato mi chiedono di avere una città vivibile, bella, accogliente, dare grande priorità e grande attenzione anche alle categorie sociali, alle associazioni, perché in un momento di grande difficoltà economica devono essere le idee e gli uomini che portano ricchezza più che i soldi. E se sarà eletto, qual è il suo primo intervento immediato? Il mio primo intervento immediato non può che essere mettere mano al bilancio. La situazione economica e finanziaria direi la conosciamo un po' tutti, ma è una bugia perché le informazioni che circolano sono tante o poche e ben confuse. Io attraverso le mie competenze e gli studi che ho fatto e attraverso l'aiuto anche di forze esterne e di altri professionisti siederò per mettere mano al bilancio, per capire quale sarà la strada da perseguire. Si parla di dissesto, si parla della salva Roma-Ter che ci darà 120 giorni per poter rielaborare un piano di riequilibrio. Nel primo caso, se sarà dissesto, l'ho già detto, il mio compito sarà quello di stare col fiato sul collo ai commissari, commissari che avranno dei poteri straordinari e quindi l'opportunità di amministrare la nostra città senza chiederci neanche il consenso delle azioni che andranno a fare. Questo non potrà avvenire. La città è nostra e io dovrò fare di tutto affinché le azioni di questi commissari siano, non dico concordate, ma tenute sotto stretto controllo. Loro potrebbero svegliarsi una mattina e decidere di vendere dei beni immobili che appartengono alla nostra città e prima voglio averne io contezze. Quindi il mio primo impegno sarà quello di ristabilire la situazione economica e finanziaria. Il mio primo intervento immediato è eliminare la porta del sindaco per aprire la città ai cittadini. Naturalmente gli interventi immediati sono quelli di conoscere quel 30-40% che Antonello Gagliardi non sa della macchina burocratica e fare il progetto Verità e portarlo a conoscenza di tutti i cittadini. Il primo intervento immediato sarà quello di instaurare sicuramente un rapporto di comunicazione e di familiarità con le persone esterne al progetto FURIA che però dovranno poi effettivamente comporre un'unica cosa. Parlo quindi dei dirigenti e della squadra e delle persone che troveremo in comune. Le priorità in termini di azioni e di interventi saranno quelle che abbiamo più volte detto politiche ambientali, politiche dei trasporti, turismo nel senso di destagionalizzazione di queste e quindi di enfasi posta sul turismo culturale con delle azioni specifiche che abbiamo inserito nel programma perché il nostro programma già prevede non solo le battaglie dette come principi generali ma proprio gli interventi specifici che vogliono essere espressione di tutto l'indirizzo politico che andremo a dare. Il mio primo intervento sarà subito quello sulla tenza urbana perché ci avviciniamo al periodo estivo e non soltanto per questo ma perché i cittadini di Soverato devono avere una città pulita e a far sì che Soverato diventi subito accogliente per i turisti che arriveranno nel mese di giugno e dopodiché programmare altre manifestazioni per far sì che chi viene a Soverato stia bene ma soprattutto rendere questa città calorosa ma non soltanto per gli ospiti anche per quelli di Soverato. Abbattimento barriere architettoniche, finora se ne è solo parlato, si continuerà a parlarne? Abbattimento barriere architettoniche, già il primo mese ne abbatterò una, se mi chiede come glielo dico subito, lo farò dedicando il mio primo stipendio proprio a quest'opera, infatti ho deciso di rinunciare all'emollimento che mi spetta per investirlo proprio sulla città, è un piccolo gesto, nulla di che, ma per far capire il senso insomma di questa voglia di fare per la città. Barriere architettoniche che poi nella vita purtroppo alle cose ci si pensa quando ci si ritrova ad affrontarle, io magari fino a qualche anno fa non me ne sarei reso conto in maniera diretta, ora che ho girato con un passeggino per la città per diversi mesi me ne sono reso conto e girare con un passeggino è chiaramente una fortuna nella vita, se penso invece alle persone che sono costrette su una sede a rotelle o hanno della mobilità ridotta, ecco quello è un grosso problema, da città sicuramente non civile, quindi quello sarà sicuramente uno dei miei primi impegni che sono certo manterrò. No, con Antonello Gagliardi no, perché Antonello Gagliardi ne ha parlato già abbastanza in questi 12 anni e allora non è possibile fare solo slogan quando si è all'opposizione, adesso bisogna andare ai fatti, i fatti sono questi, ci sono i finanziamenti della Regione Calabria, abbiamo non solo per le barriere architettoniche, ma abbiamo un corso che è da 50 anni che è rimasto quello che è, abbiamo il lungomare che è sotto gli occhi di tutti in cattive condizioni, abbiamo una città da rifare, pertanto non c'è che rimboccarsi la manica e lavorare. Speriamo di no, nel senso che noi per il sociale abbiamo previsto l'istituzione del 5 per 1000 a beneficio dell'ente comunale, quindi noi cercheremo di sensibilizzare i cittadini nell'opzionare i contribuenti, nell'opzionare in dichiarazione la destinazione del 5 per 1000 per l'ente comune, in modo da decidere insieme come destinare questo fondo accumulato per le politiche sociali e le politiche del lavoro. No, non l'ho detto prima, non è che l'ho saltato, ma credo che sia quello del rendere una città accogliente e vivibile. Uno degli interventi che devono essere subito effettuati è quello di un ripristino delle marciapiedi, ad esempio di Corso Umberto. È impossibile, io ho due bambine, di cui uno di 4 anni e uno di 6 mesi, che bisogna fare uno slalom per passare da un marciapiede all'altro, rischiando anche di andare sotto qualche macchina, ma soprattutto quello di dare l'accesso in tutti i posti alle persone diversamente abili. Credo che questo sia essere una città accogliente, ma soprattutto essere una città sensibile. Noi dobbiamo essere una città accogliente e una città sensibile. La pubblica amministrazione è spesso lenta e inefficiente. Come intende porre mano alla questione del funzionamento della macchina amministrativa? Sì, la pubblica amministrazione in Italia è lenta ed inefficiente, soprattutto in alcune zone, anche se abbiamo dei comuni al meridione che sono un fiore all'occhiello. insomma. Chiaramente questa non è colpa dei dipendenti comunali. I dipendenti comunali vanno aiutati sicuramente attraverso degli strumenti che gli possono consentire di fare bene il loro lavoro. Pensa agli strumenti informatici, pensare di avere un comune all'interno del quale gli uffici non comunicano tra loro a livello informatico nel 2014, chiaramente è un paradosso, non esiste. Quindi dobbiamo aiutare i dipendenti comunali a poter lavorare meglio, con strumenti sicuramente più all'avanguardia. Quindi il mio primo obiettivo è questo qua, anche perché vi sono dei costi tutto sommato contenuti, non esorbitanti. E poi cercare di capire anche quali sono le competenze e le capacità dei dipendenti comunali, che magari si trovano a lavorare in degli uffici all'interno dei quali non sono totalmente a loro agio, proprio per il loro aspetto caratteriale o, appunto, dicevo prima, di competenze. Quindi bisogna valorizzare anche i dipendenti comunali secondo quella che è la meritocrazia e la loro voglia, insomma, di fare. Il funzionamento della macchina amministrativa in questo momento è che ci sono quattro responsabili dei servizi e che si pagano una posizione organizzativa. La posizione organizzativa non è altro che un altro stipendio, diciamo, però questo stipendio viene dato sugli obiettivi che devono raggiungere i dipendenti. In questo momento, se la città ha fallito, vuol dire che i dipendenti non hanno raggiunto l'obiettivo, però l'indennità di risultato se la sono pagata, la posizione organizzativa se la sono pagata. Ogni anno a settembre si approvano i riequilibri del bilancio, la salvaguardia degli equilibri del bilancio e, guarda caso, in quella salvaguardia fino ad oggi hanno sempre dichiarato che non sussistevano debiti fuori bilancio e la città è piena di debiti. O mentivano prima o stanno mentendo adesso. Il funzionamento della macchina amministrativa è un problema ovviamente molto sentito. Sicuramente bisognerà informatizzare i servizi, questo sia per una questione organizzativa interna ma anche per una questione di chiarezza su determinate posizioni, collegando magari tutto a dei dati anagrafici. Sicuramente il monitoraggio continuo delle esigenze esterne andrà messo in atto e poi ci sono quelle che sono le leve strategiche, che sono quelle della riqualificazione della spesa e della rimodulazione, della riscossione magari meglio programmata dei tributi che andranno in qualche modo portati avanti. La macchina amministrativa è il motore della nostra città, bisogna responsabilizzare le risorse umane che il Comune di Soverato ha. Guarda è impossibile, io questo lo dico da cittadino, che un cittadino entri con un semplice documento e che rimbalzi da un piano all'altro o che un certificato debba essere portato dal piano terra al primo piano al secondo piano facendo le scale e non premendo il tasto di un computer. Ma questo è l'aspetto tecnico di un'amministrazione. Dopodiché il personale, io penso che abbiamo un personale qualificato ma che deve essere soltanto responsabilizzato, deve sapere che se una squadra lavora in armonia forse lavora meno ma lavora meglio. Turismo, traffico, parcheggi, riqualificazione urbana, quali interventi? Beh, turismo chiaramente è uno dei fattori più importanti per questa città e per lo sviluppo. Il turismo però non ci deve distrarre da quella che è l'azione quotidiana. La città deve essere bella per chi la vive tutto l'anno. È una città più pulita, una città più ordinata, una città con delle aree verdi, dei parchi giochi, dei punti di incontro. Sicuramente farà felici i nostri cittadini ma farà ancora più felici i turisti che ci verranno a visitare o gli abitanti del comprensorio. Viabilità sì, viabilità non ne ho le competenze dirette. È chiaro, io non sono un tuttologo e non farò grandi promesse. Quello che farò il giorno dopo saranno dei fatti. Chiaramente avrò la consulenza di tecnici che studieranno appunto questo settore della viabilità e se vi sono delle soluzioni da trovare le troveremo assieme ai cittadini, ai commercianti, agli operatori economici perché le scelte devono essere il più possibile partecipate. Parcheggi, parcheggi a pagamento sicuramente no, perché hanno fatto da deterrente. È vero che ci sono ormai in tutta Italia, però bisogna capire nelle altre città i servizi che vengono offerti. Soverato oggi non ha dei servizi, una qualità tale da poter richiedere alle persone che ci vengono a visitare di pagare il parcheggio. Quindi ne sono convinto il parcheggio a pagamento e tutte le strisce blu le riputtureremo per farle tornare bianche. L'arredo urbano è fondamentale, le barriere architettoniche fanno parte della riqualificazione urbana, i lampioni sono rotti anche sul lungomare, le mattonelle saltate. È vero, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Chi mi conosce so che da quando ho dieci anni che lavoro in varie attività della famiglia, mi sono mantenuto agli studi lavorando, so cosa significa lavorare, so cosa significa intervenire anche in questi ambiti e il mio compito sarà insieme agli uffici tecnici e agli operai comunali cercare di capire con le risorse a disposizione quali sono i primi interventi da fare e programmare con risorse regionali, nazionali, europee, gli interventi macro per una prospettiva un po' più a lungo termine. Per quanto riguarda il traffico sono le prime entrate che dovremo ottenere come comune, perché i parcheggi a pagamento non ce ne saranno. Questi sono i danni che hanno fatto tutti i comuni d'Italia quando hanno dato a società private i parcheggi a pagamento. In questo modo hanno eliminato le entrate per le proprie città, una città con le strisce bianche, una città più ordinata e creerebbe delle entrate certe all'amministrazione con le multe che faranno i vigili. Grazie a queste multe si possono anche assumere ausiliari del traffico oppure creare ausiliari del traffico con dipendenti interni. Per quanto riguarda il turismo noi cercheremo e infatti in questi giorni stiamo per fare delle riunioni con gli albergatori, con esterotori, proprio per far sì che tutti assieme con un loro coinvolgimento arriviamo ad una soluzione, sia anche per la tassa di soggiorno che dovrà essere finalizzata all'abbellimento della città e deve essere finalizzata alla cartellonistica e a tutto quello che ne concerne per il turismo. Il turismo è sulla bocca di tutte, ma se non lavoriamo tutti assieme non si può fare. Noi dobbiamo recuperare e far venire quella gente che abbiamo mandato via in questi ultimi 12 anni. Per quanto riguarda poi la riqualificazione urbana ci vuole un piano urbano del traffico che è fermo al 1989, pertanto un urbanista che farà un piano urbano del traffico. Dobbiamo riaprire e decidere sul corso Umberto, ma con il coinvolgimento dei preconsigli parleremo con i cittadini se vogliono un corso più largo, se otterremo i soldi con i POR o con finanziamenti europei, attraverso la regione o con il governo nazionale, vedremo di poter fare un corso con marciapieri più larghi oppure un corso a senso unico e altre cose. Parcheggia gratis, ma parcheggia bene. Noi è l'unico slogan che abbiamo coniato e che abbiamo inserito in un progetto specifico che vuole da una parte sensibilizzare i cittadini ad un parcheggio non selvaggio, ma dall'altra avere l'obiettivo di togliere i parcheggi a pagamento per una questione ovviamente di bilancio, di equilibrio con i servizi offerti che non possono prevedere un parcheggio a pagamento. Urbanistica c'è un piano strutturale su cui stanno già lavorando, ovviamente è una cosa doverosa perché era tutto strutturato su un trend di crescita degli abitanti dei cittadini che non è stato assolutamente rispettato. Sicuramente i nostri indirizzi saranno quella di valorizzazione del costruito e di attenzione alla viabilità su due ruote, come abbiamo detto, quindi Soverato ha una conformazione fisiologica che favorisce l'utilizzo della bicicletta, quindi va ripensata una certa viabilità che favorisca l'utilizzo di questo. Come dare un contributo a quello che è un ambito di intervento veramente grande, difficilmente affrontabile in maniera univoca. Sicuramente per quello che riguarda il turismo culturale si può fare tanto. Nel programma noi abbiamo previsto delle azioni specifiche come la rivalorizzazione dell'orto botanico di Soverato Antica, la biblioteca civica comunale, l'enfasi posta verso la conoscenza del proprio territorio per tutti gli studenti di Soverato e tante altre iniziative che vanno in quel senso. Soverato può dare un'offerta turistica durante tutto l'anno e in questo senso ovviamente bisogna lavorare con delle proposte concretizzabili rispetto alla situazione che si andrà a trovare. Tutti, tutti gli interventi. Turismo è il motore propulsivo della nostra città. Guardi, noi non possiamo fermarci a un turismo che si limita a un mese, a un turismo che si limita ad accogliere le persone che vengono a Soverato. Noi le persone a Soverato le dobbiamo portare, quindi dobbiamo trovare delle forme di turismo alternativo. Penso al turismo congressuale, penso al turismo culturale, penso a un'altra opportunità che in questo momento l'Europa ci sta dando insieme al DOS della Regione Calabria. Il nuovo DOS dal 2014 al 2018 non parla più di agriturismo, parla di turismo ittico. Noi avremo gli occhi bendati se non sappiamo sfruttare questa grande opportunità che la Regione Calabria ci dà, quindi dovremo fare una concertazione seria con la Regione Calabria, con i nostri operatori turistici degli stabilimenti balneari, con i marinai che sono numerosi e con le tradizioni marinare che Soverato ha insieme alle associazioni per sfruttare questo canale importante che è quello del turismo ittico. I parcheggi sono un altro argomento di cui se ne è parlato tanto, io ho preso un impegno con i cittadini e lo mantengo, ma non mio, una richiesta che ho sentito da tutti i cittadini. Bisogna in questo momento di grande difficoltà abolire i parcheggi a pagamento, fare delle strisce bianche ordinate con un piano traffico ordinato, dopodiché rendere il corpo di Polizia Municipale, un corpo di Polizia Municipale attento, soprattutto nelle ore di punta, nelle ore calde, intendo la sera nella Movida Soveratese, in cui chi posteggia fuori da queste strisce venga sanzionato come è giusto che sia, ma non si può danneggiare i nostri commercianti che tanti sforzi fanno e quindi credo che in un momento così difficile i parcheggi a pagamento vadano aboliti dalla nostra cittadina. Penso ad altre opportunità, penso al porto turistico, il porto credo che sia uno delle mete che questa amministrazione deve avere nella propria mente, ma a breve tempo una terapia d'urto importante è quella di un centro camper ufficializzato, in cui un cittadino straniero o italiano che si trova a Crotone e che sa che quello più vicino come centro camper è a Crotone, premendo sul suo computer, sul suo iPad, sa che l'altro si trova a Soverato. Anche questa è una forma di turismo importante che può sopprire ai campeggi, che tante economie hanno dato alla città di Soverato un tempo e quindi è una forma di alternativo di turismo mobile, veloce, dinamico e che permette alle persone di uscire all'interno di Soverato. Si può pensare a una forma di turismo alternativo a quello balneare nella città di Soverato? Certo, sicuramente. Intanto il turismo balneare lo è per noi che andiamo a mare da luglio ad agosto. Io sfido andare negli altri mesi per trovare qualche persona sulle nostre spiagge. Uno perché magari non sono neanche pulite o attrezzate, anche questo sarà un argomento di discussione. E due perché chiaramente per noi il clima magari non lo consente, mentre per chi abita nel nord Europa già dai mesi di marzo o di aprile questa è una città estiva, sarebbero per loro già in stagione estiva. Quindi sicuramente gli scambi culturali con i paesi del nord Europa sono la più grossa occasione che abbiamo. Dopodiché possiamo parlare anche di turismo di tipo congressuale, ambientale. Ricordiamo che a Soverato era stata istituita la baia dell'Ippocampo. Questa specie è presente a Soverato come in nessun'altra parte dei nostri mari nazionali. E anche quello può essere uno sviluppo economico, archeologico. Abbiamo dei siti archeologici importanti all'ingresso di Soverato Poliporto e anche nei paesi limitrofi. Quindi penso che il turismo lo dovremmo iniziare a intendere a 360 gradi. Certamente, si può pensare a tutto, non solo a quella balneare, però dobbiamo sapere che Soverato non è solo, intanto deve essere una città turistica e per fare questo bisogna cambiare la mentalità. Soverato ha bisogno di chiudere anche delle strade per mettere i tavolini dei bar fuori, ha bisogno di incentivare anche il turismo del comprensorio attraverso delle navette per poter andare a visitare questi luoghi nel nostro territorio. Soverato ha bisogno, ricordiamoci che è una città di 10 mila abitanti e che si ritrova con 5 mila ragazzi, con tutte le scuole che non hanno neanche un paese di 100 mila abitanti. Abbiamo le forze dell'ordine che non hanno in un paese di 100 mila abitanti. Soverato ha bisogno di quel turismo turistico alberghiero, ma si deve decidere anche con un piano strutturale comunale fermo anch'esso dal 1989. Sicuramente, in questo senso noi abbiamo inserito anche delle iniziative specifiche nel nostro programma, oltre alle offerte riguardanti il turismo culturale che quindi comprendono le iniziative sul Soverato Vecchia, sull'orto botanico e sulla biblioteca civica del mare. Per esempio anche le botteghe del mestiere è un'iniziativa che da una parte va ad intercettare gli obiettivi di lavoro o di formazione sul lavoro per i giovani che non riescono in questo momento o hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo lavorativo, ma dall'altra va a dare valore a delle antiche tradizioni che per Soverato si sono perse e che invece potrebbero costituire un elemento in più anche di turismo. Non si può pensare, si deve pensare a una forma di turismo alternativo. Guardi, il turismo balneare a Soverato innanzitutto dobbiamo allungarlo, c'è un turismo balneare che va da maggio a settembre-ottobre. Una forma di turismo alternativo secondo me deve essere il turismo congressuale. Cosa voglio dire con il turismo congressuale? Io faccio il medico, sono andato a un convegno medico un mese fa, mi hanno portato in un paesino del Salento dove siamo andati circa 350 medici, abbiamo deciso alcuni di ritornarci perché era un paesino accogliente. Io spero questo di vederlo a Soverato. Abbiamo un teatro che deve essere sfruttato al massimo, io credo che lì dentro si possa fare anche durante il giorno un salone congressuale dove ricevere una categoria di professionisti che viene da tutta Italia, facendogli trovare nel periodo di aprile ad esempio una Soverato vivibile, percorribile, accogliente, che mette in mostra le proprie tradizioni economiche, culturali, culinarie, facendogli visitare quelle zone archeologiche che noi abbiamo e che non sono state fino ad oggi molto evidenziate, Soverato superiore, il Borgo antico, che deve essere come centro dei saperi e dei sapori, deve essere messo in risalto. Io credo che chi trova un Soverato così, oltre a portare economia in quei tre giorni di congresso, facendolo mensilmente con le varie categorie, sicuramente ritornerà a Soverato perché Soverato è una città bellissima. Soverato è di fatto in una condizione di dissesto economico-finanziare, come intende intervenire per recuperare le risorse necessarie per garantire i servizi essenziali? Beh, chiaramente il primo passo, come già detto, sarà quello di valutare se il Salva Roma-Ter ci darà l'opportunità di uscire da questo dissesto. Non è un argomento facile, non si può liquidare con poche battute. Io ho dato un'occhiata, più che un'occhiata ho passato diversi giorni, mattina, pomeriggio e notte a sfogliare i bilanci comunali e in effetti la situazione è abbastanza ingarbugliata. La Corte dei Conti è già sentenziata in maniera chiara, le vie di uscita sono poche, ma lo spiraglio c'è. Bisogna solo capire se è effettivamente percorribile. Chiaramente se ciò non fosse possibile non potremmo far altro che rivolgere lo sguardo a quelli che sono interventi regionali, nazionali ed europei e chiaramente cercare di mettere a regime i livelli tributari. Sappiamo che il Comune paga ogni anno circa 1.400.000 euro alla Sorical per la fornitura dell'acqua riesce a ricavarne poi dalla città, molti di meno, per colpa delle condutture che magari perdono, per colpa di allacci abusivi. Quello è sicuramente un primo intervento. La gestione dei rifiuti costa tantissimo alla città e con la raccolta differenziata sarebbe anche un'opportunità per iniziare anche a guadagnare paradossalmente dai rifiuti. Quindi gli interventi macro da attuare subito sono sicuramente questi. Intanto questo avverrà perché i tre organismi esterni straordinari che sono gli organismi di liquidazione del dissesto decideranno e chiuderanno il progresso. Per quanto riguarda l'ordinario noi dobbiamo dare certezza sui servizi, garantire le entrate per il costo dei servizi. Noi dobbiamo cercare a tutti i costi i servizi esternalizzati, farli rientrare all'interno della macchina burocratica e far sì che il cittadino, nonostante il dissesto e il piano di riequilibrio portano le tasse al massimo come consentito dalla legge, noi le dobbiamo ridurre grazie al pagamento che avverranno sulla base del servizio e che faremo un monitoraggio di tutti i contratti già esistenti per ridurre le spese. Per garantire i servizi essenziali bisognerà sicuramente efficientare dove possibile le spese, intervenendo così si potrà avere una ripercussione sulle tariffe ancora modulabili. L'esempio che abbiamo già fatto è quello della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico, c'è stato un aumento concretizzato dalla precedente amministrazione di costo, a quale non è seguito un aumento di gettito fiscale, probabilmente riuscendo ad equilibrare il servizio offerto a quello che è la tassa richiesta si può avere il doppio vantaggio in termini di soddisfazione dei cittadini e quindi maggiore predisposizione nel pagare la tariffa e ovviamente anche in gettito fiscale perché pagando tutti si potrebbe ottenere gli obiettivi prestabiliti. Guardi, la dichiarazione di dissesto è ormai alle porte, credo che nessuno di noi voglia il dissesto finanziario ma se è una realtà noi non possiamo e non dobbiamo fermarci a guardare indietro a vedere gli spettri perché faremo il male della nostra città e dei nostri cittadini, dobbiamo partire da un punto fermo, dobbiamo programmare il futuro, il futuro come si può programmare? Avendo delle idee, queste idee finanziandole, sapendo che se avverrà una triade commissariale cercherà di risolvere il problema e dovrà farlo interfacciandosi con noi, ma sicuramente facendo riferimento a quei fondi europei che se le idee, e le idee ce ne sono tante, vengono messe a regime e vengono presentate in maniera professionale, possono portare degli indotti importanti a soverato su diversi campi. Dopodiché noi le tasse, è inutile nascondere, non dobbiamo dire ai cittadini delle chiacchiere, le tasse sono alte per i cittadini, noi possiamo ripagare i cittadini soltanto dando dei servizi ancora più alti e delle risposte in termini di qualità. Come intende fronteggiare l'evasione dei tributi? Beh, l'evasione dei tributi, intanto risvegliando in tutti noi il senso civico e di appartenenza a questa città, non pagare la bolletta dell'acqua, la bolletta della tarso è un danno che ognuno di noi fa alla propria città, ai propri figli, quindi risvegliare un pochino le coscienze dei cittadini, anche andando a parlarne nelle scuole e tra i ragazzi dove magari troviamo maggiore sensibilità, con dei controlli un pochino più accurati, c'è da capire se il personale che impianta organica al Comune di Soverato lo potrà permettere o se esternalizzare il servizio come è stato fatto negli anni passati, chiaramente qui nessuno vuole fare lo sceriffo con cappello e stella al petto, quindi non saranno dei controlli repressivi, ma cercare più che altro invece di risvegliare le coscienze dei cittadini per far capire che le tasse, se sono giuste e le tasse sull'alto devono essere giuste, non devono essere certamente alte, le dobbiamo pagare tutte proprio per il bene nostro, dei nostri figli e delle nostre città. L'evasione dei tributi si fronteggia con l'aiuto dei cittadini, gli garantiamo il servizio e andiamo a vedere quello che è stato fatto in questi anni, perché non sono stati mandati a ruolo negli anni che erano di competenza, perché non li hanno controllati quando dovevano controllare e che cosa sta accadendo oggi, perché non mi puoi mandare a conti nel 2013 dell'acqua, quando tu hai una lettura che da 10 anni che dici che vuoi fare la lettura del contatore non la fai, ci vuole un po' di serietà in tutto, noi lavoreremo su quella macchina burocratica, sui servizi, noi dobbiamo garantire i servizi e il cittadino deve pagare quello che ottiene, però lo deve avere come si deve. Sicuramente la strada da seguire è quella di mettere in atto una serie di strumenti che possano da una parte aiutare a rimodulare quelle che sono le tariffe rimodulabili, ma dall'altra riuscire, magari informatizzando quella che è la macchina interna dedicata a questa missione, i servizi. Per cui sicuramente la strada che ci è stata indicata negli ultimi passi dalla gestione commissariale, in questo senso sicuramente è quella da seguire. L'evasione dei tributi è un altro tema importantissimo, ci sono state esternalizzazioni di alcune società, io credo che bisogna equitalizzare il cittadino disoverato, che cosa voglio dire con questo? Che i tributi li devono pagare tutti in maniera giusta, ancora quando c'è una società esterna, questa società deve fare anche dei profitti, noi dobbiamo evitare questo, noi dobbiamo avere una macchina amministrativa che deve essere informatizzata in maniera adeguata, guardando il futuro, nel senso che quando un cittadino viene a pagare una qualsiasi bolletta, si preme un pulsante e si sa se quello è un cittadino amoroso, è un cittadino virtuoso, è un cittadino che ha pagato e ha fatto il proprio dovere, perché credo che non sia giusto trattare le persone nello stesso modo, chi non ha pagato è chi paga, e a volte anche chi paga fagli arrivare delle bollette che forse non sa neanche da dove arrivano, io credo che bisogna mettere ordine in questo e questo si può fare soltanto in un modo, informatizzando un ufficio tributi in maniera seria e portandola anche a volte all'interno della macchina amministrativa, io non credo che poi ci debba essere sempre bisogno degli aiuti degli altri, bisogna responsabilizzare anche il personale che abbiamo all'interno, che deve dare un servizio efficiente ai cittadini di Soverato, perché quello dei tributi non deve essere una gogna, ma deve essere un servizio che sia dai cittadini di Soverato. Cosa intende fare per lo smaltimento dei rifiuti? Beh, per lo smaltimento dei rifiuti, intanto non ci scordiamo che la Regione Calabria è commissariata da ormai tanti anni, forse 10-15 anni, quindi è un tema particolarmente importante e tra virgolette caldo nella nostra Regione. Soverato è chiaramente pagadazio, come tanti altri comuni, del circondario ed è sotto gli occhi di tutti, insomma, in alcuni periodi dell'anno appena trascorso, questi cumuli di rifiuti per le strade. Un primo passo sarà la raccolta differenziata che già il Comune in qualche modo sta cercando di portare avanti e che forse già tra qualche giorno troverà dei primi step. L'isola ecologica è stata già approntata e quindi è pronta anche a partire. Diciamo che la strada e il solco è stato già fatto, la nostra capacità dovrà essere quella di inserirci su questo solco con maggiore determinazione e quindi seguire quella che è la raccolta differenziata. Dopodiché anche il trasporto dei rifiuti potrà trovare nuove vie, nuove alternative, come ad esempio quello su Rotaria. I camion per recarsi nei centri di smaltimento impiegano molto tempo, molto carburante, inquinano e creano male odore. Utilizzando invece la rete ferrata, come si sta facendo già in altri paesi d'Europa e in alcune zone d'Italia, può essere sicuramente un'alternativa valida. Far rispettare il contratto e il capitolato speciale, perché è quello che nessuno ha riuscito a farlo rispettare fino ad oggi e non sono credibili quello che dicono che lo faranno rispettare domani, perché è da 12 anni che non lo rispettano e noi stiamo pagando 70 mila Euro e i rifiuti ce li abbiamo in mezzo alla strada. O io non avrei pagato i 70 mila Euro del mese scorso, ad esempio, se ci fosse stato. Fermo restando che con me non saremmo arrivati a questa situazione, perché avrei eliminato i cassonetti come prevede il capitolato, sia della Schilacium, sia della Mea, sia dell'Ecoambiente e di tutti quelli che vogliono. Qui c'è qualcosa che non quadra, non c'è stata un'amministrazione che abbia controllato i propri contratti e i propri capitolati. Smettiamola di parlare di comuni che vengono qui a spiegarci come si fa la differenziata. È ben scritta, trasparente su tutti i capitolati e su tutti i contratti. O si rispettano o si riuscindono i contratti e si trovano altre ditte che facciano solo, esclusivamente, quello che è riportato nel contratto? Noi abbiamo sin dall'inizio analizzato delle buone prassi comprensoriali. Nel Cosentino, quindi comuni che anche loro subiscono una carenza a livello regionale programmatico, comunque è stato dimostrato nel Cosentino che ci sono le soluzioni per riuscire a ottenere dei virtuosismi per la raccolta differenziata. Il Comune di Marzi è già stato nostro ospite. Noi nel programma abbiamo richiamato il modello Saracena perché vorremmo seguire quel modello per arrivare all'internalizzazione di quel servizio e aspirando, seguendo la strategia poi madre, che è quella di Obiettivi Zero, ad arrivare anche noi nel tempo ad una virtuosa differenziata. Lo smaltimento dei rifiuti, guardi, è un tema ormai nazionale, è un tema regionale, è un tema che affligge anche la nostra città. I rifiuti bisogna avere soltanto un punto fermo, quello della raccolta differenziata, ma la raccolta differenziata non può restare una parola stratta o non può essere uno slogan come quello dei rifiuti, soltanto per strumentalizzare o per fare uno scaricabarile con gli altri enti. Noi dobbiamo insieme ai cittadini di Soverato capire che soltanto se si fa una raccolta differenziata vera, ordinata, precisa, che forse all'inizio può essere anche difficoltosa nel capirla e nel metabolizzarla, ma nel momento in cui si riesce a farla ci sarà un guadagno per tutti, avremo una città pulita soprattutto per i nostri figli e questo credo dal punto di vista ambientale. Dal punto di vista economico lei pensi soltanto che il risparmio che si può ottenere, il trasporto dei rifiuti da Soverato alla discarica costa circa 400 mila Euro ai cittadini di Soverato, pensi quante cose potremmo fare risparmiando questi soldi e investendoli nel sociale, nelle categorie più deboli che sono quelle degli anziani o dei bambini, formando un centro motorio per i bambini o un centro per gli anziani, lei pensi quanti soldi potremmo risparmiare e investirli in altre cose? Ecco, credo che nel momento di dissesto bisogna pensare a ricavare e a risparmiare in alcuni campi per investirli in altri. Come vede il rilancio e la riqualificazione del centro storico? Beh, il centro storico io lo intendo Soverato superiore, sicuramente deve avere maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Un primo passo l'ha fatto uno dei candidati che è in lista con me che è quello di aprire un supermercato al strato superiore e permettere alle persone finalmente di poter fare la spesa percorrendo 50 o 100 metri a piedi e non dovendo scendere a Soverato Marina, quindi complimenti a Fabio Tropea che è candidato appunto con me. Un altro passo era quello della delegazione comunale, costo posso dire zero, un computer collegato a una rete internet e uno o due dipendenti che invece di lavorare in marina andranno a lavorare a Soverato Superiore, anche quello permetterà a molte persone di non dover scendere a Soverato Marina. Una navetta che possa collegare appunto le due zone di Soverato è sicuramente un altro punto importante all'interno del nostro programma. E poi quello che è l'abbellimento urbano, far partecipare a Soverato Superiore anche a feste che fino ad oggi si fanno soltanto a Soverato Marina e quindi portare anche lì qualche evento e poi chiaramente la festa della Galilea, della Dolorata dare sempre maggiore risalto e importanza. Il rilancio del centro storico partendo dal Soverato Superiore, dal Borgo di Soverato Superiore e dal Soverato Marina, noi con i nostri due architetti che stanno già studiando anche con le università per fare una borsa di studio, un master, stanno già lavorando su questo e noi stiamo più che andare nelle case a chiedere i voti, stiamo andando a verificare com'è la situazione di tutti questi borghi e delle strade e vi assicuro che è penosa, non solo il discorso dell'erba alta, ma ci sono canali mai puliti e se sono stati puliti sono stati abbandonati e ci sono delle situazioni veramente di grande emergenza che devono essere prese immediatamente, riprese immediatamente e il centro storico deve essere il fiore all'occhiello di Soverato. È una questione a cui noi già nel programma abbiamo dato molta importanza, ci sono iniziative come quella delle botteghe del mestiere che può da una parte favorire l'introduzione, l'ingresso al mercato del lavoro dei giovani attualmente senza formazione, senza lavoro, ma dall'altra può essere un ottimo spunto per rivalorizzare quelle che sono le rughe e i catoi di un centro storico di Soverato che noi speriamo possa sempre assumere più importanza anche come volano di sviluppo per il turismo locale. Il centro storico deve essere rilanciato e riqualificato e deve essere soprattutto, secondo me, messo in raccordo anche con la cosiddetta periferia. Guardi, Soverato non ha delle periferie, Soverato ha dei quartieri che sono attaccati, limitrofi, Soverato è percorribile in tutto e per tutto a piedi e che pure uno sente distanti. Noi dobbiamo unire, il centro storico deve essere tutto. Certamente ci sono delle vie importanti, mi riferisco a Soverato Marina e al borgo di Soverato Superiore. Soverato Marina, ad esempio, le zone di via Chiarella e le zone che collegano il corso con il lungomare devono essere riqualificate, nel senso che devono essere rese percorribili e devono incuriosire il cittadino, devono incuriosire il turista. Il turista dal lungomare deve facilmente arrivare sul corso e viceversa, altrimenti metteremo un distacco. I distacchi nelle città non vanno mai bene. Per quanto riguarda il borgo di Soverato Superiore, molti mi pongono la domanda cosa fare per il borgo di Soverato Superiore. Io credo che il borgo di Soverato Superiore può fare tante cose per Soverato Marina. Quello deve essere il nostro fiore all'occhiello, deve essere la vera cultura di Soverato, perché guardi, il vero Soveratese, la vera cultura di Soverato è concentrata nel borgo di Soverato Superiore o Soverato Alto, ma oltre a questo noi dobbiamo renderlo vivibile, soprattutto per i cittadini di Soverato Superiore. Con questo cosa le voglio dire? Bisogna fare un collegamento continuo, mi riferisco a un pullman, a due pullmini che vanno avanti e indietro, ma un collegamento continuo. E dopodiché fare uno studio mirato anche con le associazioni, con i commercianti soprattutto, perché è impossibile che un anziano in questo momento di Soverato Superiore per comprare il pesce o per comprare una fettina di carne debba scendere a Soverato Marina. Noi dobbiamo far sì che i commercianti vengono in qualche modo aiutati anche dall'amministrazione affinché i cittadini di Soverato Superiore possono soffruire di tutto ciò che soffruisce Soverato Marina e noi dobbiamo raccordarci perché Soverato Superiore è un posto bellissimo dal punto di vista culturale. Mi riferisco alla pietà di Antonello Caggini, a Soverato Vecchia, alle zone archeologiche, fare una pista percorribile delle zone storiche della nostra città, delle viuzze di Soverato Superiore, da far fruire ai turisti e non turisti le sere di primavera e di estate. Perché io credo che se a Soverato Superiore si renda ancora più viva, molti cittadini di Soverato Marina andranno la sera a trascorrere un'ora o a vivere la propria vita a Soverato Superiore. Quale sarà il suo impegno per far sì che i giovani abbiano un futuro nella loro città? Beh, qua con me spondo una porta aperta. Io se mi guardo dietro vedo su 23 compagni che eravamo a liceo scientifico solo due persone che siamo rimasti qui a Soverato. Per me l'aspetto dei giovani, dei ragazzi è uno degli aspetti principali. Bisogna capire però i ragazzi cosa hanno intenzione di fare. Le strade chiaramente a un certo punto si dividono, c'è un bivio. Puntare verso il lavoro, la professione o verso gli studi universitari. Nel primo caso bisognerà sicuramente far nascere all'interno degli uffici comunali un ufficio che si occupi appunto di finanziamenti europei e che possa aiutare questi ragazzi a crearsi un lavoro, a crearsi una propria opportunità di vita e di lavoro. Quindi a Soverato si può fare impresa, si può fare microimpresa, si possono aprire attività all'interno del settore del commercio, della ristorazione. Il comune deve essere al loro fianco, deve abbattere quella che è la burocrazia che fa spesso perdere soltanto tempo e li deve aiutare passo per passo appunto anche nella realizzazione dei loro progetti. Per quanto riguarda l'altro punto, appunto, gli studi universitari bisogna aiutarli a raggiungere la sede universitaria. Io che vivo tra i ragazzi, che faccio sport, che passeggio per Soverato, sento molto di loro lamentarsi con i collegamenti universitari perché non riescono a frequentare l'università. Io che ho fatto l'università a Milano so quanto sia importante frequentare l'università e viverla tutti i giorni. Quindi là dovremo batterci con la regione e mi batterò tutti i giorni con la regione per intensificare i collegamenti tra Soverato, il comprensorio di Soverato e il polo universitario di Germaneto. È semplice. Il Consiglio Comunale dei Giovani è quello che garantirà le idee di tutti i giovani alla città di Soverato per renderla più giovanile possibile. I giovani saranno responsabili con il loro Consiglio Comunale, con un segretario comunale che sarà a disposizione, come è per il Consiglio Comunale dei Grandi, a disposizione dei giovani per le idee che dovranno portare e deliberare e poi portarli avanti all'interno della Giunta e del Consiglio Comunale. Noi ai giovani li eleggeremo come se fossimo stati noi eletti, come se fossero stati loro i nuovi eletti. Pertanto saranno gli attori principali della macchina burocratica soveratessa. In questo senso speriamo che il progetto Foria stesso possa rappresentare un modello per lo stimolo al protagonismo giovanile. Sicuramente l'impegno prioritario sarà quello di creare le condizioni per cui il giovane soveratese possa ritenere vantaggioso vivere e rimanere nella propria città. Questo è un altro tema importantissimo, perché a me piace ricordare sempre uno slogan che dice, io faccio il ricercatore universitario, che il mio professore dice a noi giovani guardi che non si diventa vecchi anagraficamente, si diventa vecchi quando i rimpianti superano i sogni. Allora i cittadini di Soverato, i giovani di Soverato devono continuare a sognare. E io ho anche un sogno, quello di non vedere più ragazzi che vengono al comune di Soverato per avere un sussidio, dicendo la solita frase che a 30 anni ancora non possono avere una famiglia o non possono sposarsi o avere la propria dignità personale che è quella del lavoro. Noi il lavoro non ne possiamo promettere, nel senso di lavoro clientelare, ti do qualcosa se fai questo. Noi possiamo avere delle idee importanti, sfruttare con un centro di informazione importante a dire ai ragazzi se avete delle idee proponete, insieme andremo, non pensando ai massimi sistemi europei, ma prendendovi per mano elaboreremo queste idee, andremo in regione, andremo in Europa per vedere se possono essere finanziate e se insieme possiamo fare delle attività. Perché guardi che Soverato ha delle grandi menti, che fuori da Soverato hanno dato grandi risposte i miei compagni di scuola, gente che ha studiato, persone che sono andate via e che danno grandi risposte alla comunità. Io credo che questo si possa fare a Soverato se si dà fiducia ai giovani. Come vede la trasformazione futura della città di Soverato? Beh, in futuro Soverato la vedo più accogliente, più bella. Una città all'interno della quale si passeggia per la strada e ci si ferma a chiacchierare con le persone come succedeva un tempo e come ora succede forse un pochino di meno. Facendo collaborare tutte le associazioni con loro, senza invidie e gelosie, Soverato ha bisogno delle energie e delle forze di tutti quanti. E per farlo dobbiamo stare assieme proprio per il bene della città. La vedo con un porto turistico che possa portare sviluppo. La vedo con un lungomare ancora più bello, più curato, che possa veramente diventare un salotto per la città. Con i commercianti che tornino a essere contenti e più soddisfatti, dando ascolto a tutti quanti. La vedo come una città per gli anziani, dove gli anziani possano passeggiare, possano avere dei luoghi d'incontro, dove trovarsi la sera a chiacchierare, a giocare a carte, a scambiare due chiacchiere a punto. È una città dei bambini, perché i bambini sono il nostro futuro, devono avere una città a loro disposizione, con delle aree gioco, con delle reti wifi in tutta la città, con la possibilità di uscire dalla porta di casa e camminare e passeggiare tranquillamente, come facevo io da bambino, senza nessun pericolo, ma con la voglia di stare insieme e giocare a nascondino per le vie della città o a pallone sul lungomare? Questa è una bella domanda. Spero che, se ci sarà quel coinvolgimento, la trasformazione di Soverato sarà quella di essere una città accogliente, una città che possa essere veramente la città capofila di tutto il versante ionico. Spero che con l'unione dei comuni e con la possibilità di consentire e con il coinvolgimento degli altri sindaci avremo delle strutture attrezzatissime, incominciando dall'ospedale, dove purtroppo stiamo perdendo pure il reparto pediatria e noi con il coinvolgimento dei sindaci faremo di tutto che questo reparto ritorni ad essere e a consentire ai cittadini soveratesi di avere i propri figli nati a Soverato. Io spero che questa città, con il coinvolgimento dei sindaci e dei comuni limitrofi, sarà il capoluogo del versante luglionico. La trasformazione di Soverato può avvenire se si sarà capace di essere reattivi e di cogliere al volo le opportunità esistenti funzionali ad uno sviluppo territoriale, ma in primis bisognerà partire da ricreare le condizioni perché ci sia armonia in una comunità attualmente totalmente disgregata. Guardi, io Soverato la vedo e la sogno, una città sorridente, una città accogliente, una città che non parli più soltanto di Soverato ma che parli di comprensorio, perché Soverato deve capire che può andare avanti soltanto se c'è un comprensorio che sta insieme a lei e certamente Soverato deve avere quel ruolo di capofila che gli merita e che ha avuto nella storia e nella tradizione di questa nostra costa. Io vedo una Soverato che è fruibile 365 giorni all'anno, è fruibile per i turisti, è fruibile per i cittadini di Soverato, è fruibile per i tanti ragazzi che la mattina vengono a scuola, per le tante mamme che accompagnano i ragazzi a Soverato e che invece di ritornarsene subito al loro paese aspettano qui 5 ore i propri ragazzi perché Soverato è una città in cui si sta bene, in cui si può camminare a piedi, in cui si può fare la spesa nel giro di mezz'ora, in cui ci sono dei negozi che forse in altre parti non si trovano, in cui c'è un atmosfera, un sole, un mare e delle vie che permettono ai cittadini di Soverato e del comprensorio di stare a Soverato. Fra i punti in comune dei quattro programmi amministrativi c'è la politica comprensoriale, quindi una città capace di aprirsi ai paesi limitrofi. In che modo? Beh, certo, ormai è la legge che in alcuni casi costinge, tra virgoletti, i comuni a collaborare per alcuni servizi essenziali, pensiamo ad esempio a quello scolastico. E' chiaro, lo dicevo prima, Soverato da sola ha poco futuro, nel senso che deve collaborare in maniera stretta con i comuni limitrofi, pensiamo al depuratore, lo sposteremo da Soverato per metterlo nel comune di Satriano, questo proprio per poter permettere a Soverato di svilupparsi meglio, ma permettere anche a Satriano di svilupparsi meglio, perché ha un tratto di spiaggia altrettanto bello, anche il comune di Satriano. Quindi io credo veramente nella collaborazione, a me dispiace quando si parla di campanilismi, di invidie, di gelosie, sarà appunto uno dei miei primi punti quello di convocare tutti i sindaci del comprensorio, sederci attorno a un tavolo e capire insieme quali debbano essere i programmi futuri per farli diciamo uno fianco all'altro. Certamente qui parcheggio a pagamento, come hanno fatto fino ad oggi, non penso che riescono ad aprirsi, forse gli fanno qualche favore, perché così la gente non viene qui e se ne va d'altrove. Per quanto mi riguarda il mio progetto è da dieci anni che parlo di unione dei comuni in forma tipo distretto, ho spiegato già una volta questo emittente, 0968, 0967, 0961, sono 22 comuni per 0967, riusciremo a coinvolgere 22 comuni per fare un'unione dei comuni, che si interessano tutti i sindaci eletti, perché sono quelli che il popolo gli darà più fiducia, non come una provincia, visto che hanno già deciso di eliminare le province, di poter gestire il proprio territorio tutto assieme e vedere le difficoltà tipo depuratore, tipo piano strutturale comunale, anche intercomunale, noi su queste cose, perché abbiamo il comune limitrofe che è al nostro confine, noi abbiamo un terreno agricolo e loro ce l'hanno edificabile, noi su queste cose dobbiamo lavorare con questi sindaci, ogni 15 giorni ci devono essere degli incontri, dei tavoli di concertazione, delle audizioni con gli altri enti tipo le istituzioni, per verificare e tutti assieme fare un qualcosa per tutto il comprensorio. Io mi riferisco al piano strutturale comunale come mi riferisco ai servizi dell'ospedale, se qualche servizio dell'ospedale deve essere eliminato, che sia eliminato, però un pronto soccorso, di primo soccorso, con un elisoccorso, con una camera iperbarica e con una sala chirurgia e anestesia che possa garantire il servizio per tutto il comprensorio sarebbe di una grande utilità e penso che questo non solo sarà di grande utilità, ma salverebbe molte vite umane e consentirebbe che quando c'è bisogno di una professionalità a Milano, a Roma, a Messina, con l'elisoccorso, dopo aver salvato la vita, noi continueremo a mantenerla in vita. Il comprensorio deve essere una leva strategica da utilizzare nelle politiche che Euforia vorrà attuare e nel programma sono previsti vari strumenti che possono essere espressione di questo indirizzo che vorremmo dare, ad esempio il patto dei sindaci per l'efficientamento energetico permetterà da una parte, assoverato, di fare rete con tante altre realtà per poter utilizzare quelli che sono dei fondi specifici messi a disposizione dalla Banca Europea e degli investimenti, ma dall'altra sarà uno strumento per iniziare a parlare, a dialogare con le altre amministrazioni del comprensorio e cercare di trovare la soluzione per problemi condivisi insieme. La politica comprensoriale deve aprirsi in vari modi, uno dei modi è quello proprio della mentalità perché lei pensi, io prima ho parlato di turismo congressuale, noi pensiamo se arriva a soverato 7, 800, 900, 1000, 1500 avvocati, non tutti potranno dimorare a soverato, alcuni dimoreranno a soverato, alcuni dimoreranno nei paesi limitrofi, questa è comprensorialità, un sistema di collegamento turistico che colleghi i paesi limitrofi con soverato per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda le cose spicciole, c'è la socialità vera e propria, ma io penso a un PSC, a un piano strutturale che è fondamentale per la città di soverato e che deve essere studiato con una nuova visione, una visione che guardi anche alla comunicazione con gli altri paesi limitrofi che si stanno estendendo, soverato si deve estendere con un PSC che guardi verso nuove prospettive, che guardi agli altri paesi, che non guardi a racchiudersi dentro se stesso ma che si apra verso il comprensorio. Parliamo del logo che caratterizza la vostra lista. Sì, la torre di Carlo V, in effetti i simboli in città ce ne sono tantissimi, a parte la torre di Carlo V, la piazzetta, il lungomare, la pietà, soverato superiore, il palazzo all'ingresso della città. Abbiamo scelto la torre di Carlo V perché è lì in una posizione alta, dove vorremmo essere noi ad amministrare e perché rivolge lo sguardo verso l'orizzonte, verso il futuro, il nome della nostra lista è verso il futuro e quindi non ci sembrava altro simbolo più giusto come quello della torre di Carlo V. E' semplicemente soverato, c'è un'onda, c'è il sole, c'è il mare, quello che la natura ci ha regalato e che noi non abbiamo saputo sfruttare in questi anni. Il logo di Euphoria fa della semplicità una propria caratteristica, c'è uno sfondo di colore arancione perché questo è il colore della comunicazione e poi una scritta, una scritta che rappresenta il progetto, le persone, le idee, i metodi ed è il progetto, il gruppo di persone che deve andare avanti, senza personalismi e in un nuovo modo di concepire la politica che vogliamo proporre. Noi siamo una lista politica e lo diciamo con grande orgoglio perché io credo che fare politica e fare buona politica sia un dovere di tutti i cittadini. Noi ci presentiamo quindi con la certezza di fare politica, di avere una lista politica che ha un grandissimo significato. Pensi che siamo l'unica città in tutta la regione che si presenta con i simboli del centrodestra, ma il vero significato è un altro. Noi prima abbiamo parlato di condurre i ragazzi in regione, di portare dei finanziamenti, di portare risorse nel comune di Soverato e allora le dico una cosa, la politica deve avere anche e soprattutto questa funzione, quella di collegamento con gli altri enti. La vera autorità della politica deve essere questa. La politica non può essere strumentale. Un giorno si usa la politica, un giorno non la si usa, secondo la moda o quello che pensano i cittadini. I giovani e i meno giovani si sono allontanati dalla politica? Io credo di no. Io credo che è la politica che si è allontanata dai giovani e dai meno giovani. Noi ci presentiamo con una lista politica perché vogliamo riavvicinare la politica e i cittadini. Ha la possibilità di rivolgere un messaggio ai suoi avversari politici. Prego. Beh, il messaggio che posso rivolgere nel momento in cui saranno all'opposizione tra qualche giorno di cercare di fare un'opposizione costruttiva e non distruttiva. Sarei contento insomma di lavorare anche a fianco a loro perché riconosco anche loro sicuramente delle qualità e delle competenze e quindi poter assieme ragionare sul da farsi. Quindi sicuramente il mio messaggio sarà questo, insomma, di fare un'opposizione costruttiva per il bene della città. Il commento è facilissimo. Noi chistisimo. Parleremo un linguaggio, dialetto italiano, con la speranza che con l'italiano sbagliamo meno congiuntivi possibili. Dopodiché gli auguro buona fortuna a tutti e tre. Ai miei avversari mi sento di fare un grosso in bocca al lupo e di consigliare anche loro di essere capaci di agire con l'entusiasmo delle piccole azioni. I miei avversari politici dico di stare tranquilli, di pensare come fanno al bene della città di Soverato, pensare al futuro e dire quello che penso io, che non ci sono dei nemici da abbattere ma ci sono degli avversari politici e che la buona politica bisogna fare in televisione e bisogna dire a tutti i componenti della propria squadra, perché noi che la capeggiamo, queste squadre, ne siamo i responsabili, che bisogna essere equilibrati sempre fuori e dentro, sulle strade e in televisione. Perché votare lista numero uno verso il futuro con candidato a sindaco Ernesto Alecci? Beh, votare questa lista, votare candidato a sindaco Ernesto Alecci, perché sicuramente ha le competenze, la voglia di impegnarsi, il tempo da dedicare e un grandissimo amore per questa città. La squadra è fatta da giovani, da varie componenti, professionisti, pensionati, studenti universitari, solo costruendo una lista in questo modo si possono raccogliere veramente quelli che sono gli umori, le sensibilità più diverse. Mettendole poi assieme si possono creare i presupposti giusti, insomma, per governare la città, dando ascolto a tutti. Dicevo prima, il comune deve essere la casa del popolo e l'obiettivo già è stato raggiunto in un certo senso, costruendo una lista proprio in questo modo. Perché votare lista numero due semplicemente soverato con candidato a sindaco Antonello Gagliardi? Perché all'infuori di Antonello Gagliardi è una lista giovanissima, come altri si stanno vantando che hanno le liste giovani, la nostra è altrettanto giovane, solo che noi non abbiamo nessuno della nostra lista che abbia mai fatto parte di una maggioranza e abbia alzato la manina all'interno del Consiglio Comunale. Pertanto siamo liberi, autonomi, indipendenti e lavoreremo con tutti i cittadini, lavoreremo con grande umiltà e siamo una lista che non ha bisogno di posti per garantire quella garanzia che fino ad oggi non è stata data alla città. Perché votare lista numero tre, euforia, con candidato a sindaco Pietro Curatola? Votare euforia è importante perché vuol dire votare un progetto e non una semplice lista, perché vuol dire essere partecipi di un programma che è già stato costruito sulle esigenze prioritarie dei cittadini e soprattutto perché euforia è costituita da persone, idee, metodi nuovi e innovativi, persone che non sono dirette magistralmente da partiti o da alleanze partitiche che tendono comunque a fagocitare gli intenti genuini di qualsiasi persona impegnata in politica, ma sono persone libere e non condizionate che riusciranno a portare a termine i propri obiettivi e le proprie soluzioni per il bene collettivo. E infine, perché votare il lista numero quattro coalizione Forza Italia o DC Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale con candidato a sindaco Francesco Manti? Non parla perché noi vogliamo dare sicurezza ai cittadini di Soverato, noi vogliamo cambiare Soverato, non vogliamo cambiarla in parole, vogliamo stare vicini ai cittadini di Soverato e dire ai cittadini di Soverato che noi pensiamo da saggi, però parliamo con e come la gente comune. Questo lo sanno perché lo dice la nostra storia e lo faremo anche dopo. Grazie a tutti!